nel nostro mondo? In realtà, sì. Oggi mia nonna ha fatto cadere una lampada per terra. Dubito sia facile, ma se uno è emotivamente instabile... Enzo... Enzo è morto? Sì, io... l'ho ucciso. Quindi i miei poteri deduttivi fanno schifo? Enzo... Perché non hai detto niente? Perché era complicato. Cosa c'è di complicato? Enzo è morto, l'hai ucciso tu. Elena me l'ha detto. Neanche tu lo sapevi? No, per niente. E il loro segreto riguardava veramente Enzo. Per l'appunto. Potremmo affrontare l'argomento un'altra volta, Damon? Assolutamente sì, fratello. Quando ti è più comodo... L'altra parte sta cadendo a pezzi e questo permette ad Enzo di interferire con noi. Enzo! Sei qui? Non credevo che mi mancasse questo. Perché se è così, vattene! Non ha senso. Se Enzo voleva uccidere Elena, al negarla non sarebbe servito. È in gamba. Capisco perché vi piace tanto. Forse cerca solo di spaventarci. Pochino. Da brava. Ci sei quasi. Cos'ha in mente, Enzo? A negare Elena era solo un diversivo. Ha scoperto il modo di ucciderci tutti quanti in un colpo solo. Eh sì, mi sei mancato tanto. No. La cosa si sta mettendo molto male. Dov'è Luke? E chi lo sa? Meglio che lo troviamo prima che i viaggiatori trovino noi. Olehenda et ena.